Siamo tutti i tre due anni di distanza, che per la mia cittadinanza è il concetto comunale, è il concetto verità, gli discepciano, con persone che si andano, urlano, hanno provato di vita e violenza, ma lo sai io sono te lo ti fanno a fotografare, perché se ti consigliano un anziato ti infieliscono in questo dato, dirente, non è consentito, io sono veramente indignata e io non scusa l'avventa, non c'è un concetto comunale e si tratta da Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.